Prima si è passati dal 14 dicembre all'11 gennaio, adesso un ulteriore rinvio delle primarie del PD in Campania. La direzione regionale, convocata a Santa Maria Lanova, infatti ha deciso come prossima data il 1 febbraio. La decisione è stata votata a maggioranza dei componenti dell'organismo e, secondo il segretario regionale del partito, Assunta Tartaglione, è stata una scelta ponderata dovuta all'esigenza di organizzare al meglio un evento di importanza democratica. Ho proposto nella mia relazione lo spostamento delle primarie al 1 febbraio su input della segreteria nazionale, allo scopo innanzitutto di organizzare al meglio la competizione delle stesse, soprattutto allo scopo di rasserenare il clima e il fine di far sì che veramente le primarie siano un momento di trionfo della democrazia e un momento di grande partecipazione democratica.